musica allora dobbiamo proseguire verso nord vero? ah qui ho lasciato anche qua ho lasciato un bottino beh però possiamo fare una cosa guarda possiamo fare il viaggio rapido almeno lo proviamo possiamo ah ma no possiamo farlo dalla mappa e non mi ricordavo più e allora allora e qua guarda ci mettiamo due secondi no non mi ricordavo possiamo fare così direi che forse vabbè anche qua forse è meglio ok era su di qua ah però forse qua è bloccato o no vediamo un attimo no 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 ok a posto ok aspetta ok a posto così abbiamo preso tutto eh infatti non mi va di lasciare cose in giro anche perché comunque non è che ci sia così tanto da raccogliere quindi due cose che lasciamo possiamo anche raccogliere allora andiamo su di qua qua guarda qua c'è un altro bottino uh c'è una strega vai combattiamo ok a battaglia normale ma dai alcuni pescatori ieri anni sostenevano che dalle basse acque dell'oiavina tra le ninfee fossero emersi dei mostri secondo i loro racconti queste bestie avevano grossi occhi da pesce pedesco amate e setole verdastre ok allora direi che è una battaglia normale perciò il medico ci serve sicuramente questo magari ne prendiamo uno ce ne teniamo uno questi tre mi escono sempre è una cosa incredibile cioè meglio eh però cioè vabbè e allora direi direi che possiamo stare anche così ok aspetta che leggo alla fine di ogni turno la ninja di uno è un nemico casuale l'ultimo desiderio richiama questa unità al tuo cimitero e la indebolisce di quattro ah ogni torno in vita questo dopo cinque turni all'inizio del turno evoca pioggia torrenziale su una fila qualsiasi solo una volta per battaglia a questa mia evoca pioggia torrenziale e vabbè ok allora dobbiamo perdere un attimo tempo c'è il turno e fargli usare più carte possibili quindi che usiamo questo questo magari sì usiamo questo e passiamo per fine turno aspetta sposta due nemici sulla fila opposta a quella di questa unità e vi applica pioggia torrenziale eh così poi c'è il comandante che la evoca e siamo a posto siamo nella pioggia pioggia torrenziale inizio di ogni turno danni già due unità casuali di questa fila di uno bene piacere allora siccome lo dobbiamo tanto perdere bene facciamo una cosa evochiamo lui non ne passa nulla ok poi facciamo così e poi il turno dopo passiamo basta non facciamo nient'altro ma guarda sposta le cose come vuole lui eh allora sposto il nemico sull'altra sua fila e lo danni già di 3 piacere eh passano passiamo proprio è in vantaggio lui e quindi ha vinto ok ok hm no cazzarola eh ah pal limite massimo in mano allora io direi che possiamo ottimo ottimo tre erbalestieri vanno bene eh si starai così starai così va bene ecco vabbè l'hai evocata qua alla fine qua non c'è va bene ok allora direi di evocaio adesso gioco qua ovviamente no evocaio o il medico dimmi che stai scherzando qualcuno ok hai del cibo è una fine ma guarda te che mi sposta le unità vabbè io comunque gioco qua ovviamente allora adesso adesso ho messo potrei giocare un'arbalestriere facciamo così giochiamolo qua mi basta un solo d'altro uno due tre quattro cinque vedo sia un po' indifferente questo dai ah possiamo no non è ancora il momento aspetta eh mi ha spostato questa è male male perché adesso io avevo evocato Caldwell e avevo evocato un medico e un'arbalestriere ci possiamo riprovare però anche se io userei il mio potere eh facciamo eh tanto è uguale facciamo questo dai o questo questo dai ok eh forse dovevo vabbè fai indicami un bersaglio così ebbene uno due tre quattro cinque cinque diciamo così ok cos'è che fa questo evoca una coppia base di questa unità ultimo dia danneggio è tre tutte le unità di questa fila ma se muore va bene adesso evochiamo Caldwell esatto direi un'arbalestriere qui sì ok e un medico da campo qui eh questo aspetta quante sono? uno due tre quattro cinque cinque sei sette otto no allora evochiamolo qua ancora ancora ok ed ora no vabbè ora fine turno vediamo un po' ok lui non passa ancora il maledetto eh allora potrei evocare qualcuno un altro sono sprecato nell'esercito evochiamo questa che pareggia un po' esatto esatto e ok ehm basta no basta basta ovviamente basta vai vediamo se intelligente passa no è evocato pioggia torrenziale eh se è parso però lui poi vince quindi devo per forza giocare allora direi giochiamo no lui ah evochiamo qualcuno ah ne evoca un altro destra sinistra e devo giocare qualcuno qualcosa riprendiamo in mano qualcuno al cimitero che che avevo no allora guarda richiamo un'arba all'estere quello lì che era più debole oh niente lui insiste continua a giocare allora adesso usiamo il potere ottimo se muore danneggia gli altri perfetto ma catena proprio eh si è un'arma a doppio taglio quel mostro eh ok evochiamo qualcuno va bene ma questi stivali mi uccidono adesso sono costretto allora due balestrieri io li terrei per dopo però diciamo così giochiamo questo qua ok ok fine turno e poi cioè oh bravo eh meno male ha passato passo anch'io eh ok 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 abbiamo più carte di lui quindi questo è buono allora allora possiamo lui eh lui è forte diciamo che è forte però in teoria non ci serve perché non abbiamo nulla che che ha le abilità ordine però è forte però è forte aspetterei cioè non lo cambierei eh lui va bene perché in questo caso si potenzia di 5 mi va benissimo perché userò il potere del comandante no stiamo così stiamo così vediamo come vava tocca a me tocca a me e allora ma andiamo al medico chissà quanto su di con quella giacca ah ecco un'arbalestiere vabbè l'armatura non li salverà ehi non posso colpire nessuno Liria ecco questa cosa è sì cioè può capitare che mi devo danneggiare da solo perché io devo sono obbligato a a usare il suo effetto e se di là non c'è nessuno e posso farlo devo colpirmi da solo è una bastardata ma è così lo so e vabbè vabbè è andata male dovevo forse aspettare un turno adesso vediamo vediamo se comunque non influirà sulla sulla fine eh allora adesso beh possiamo oddio non so eh giochiamo lui intanto si semina si raccoglie e si muore ma guarda come la sposta e vabbè allora poi possiamo giochere possiamo potenziare qualcuno potremmo potenziare possiamo usare il potere del comandante ma aspetta un attimo potenziamo lui guarda ecco ok ok adesso abbiamo due balestrieri giochiamo il nostro capitano qui quello che fa fa niente non fine turno ottimo 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 giochiamo però eh sì devo forse giocare questo un'arbalestriere qua mi basta un solo dardo mi basta un solo dardo e danneggiamo aspetta eh qui togliamo quattro ok allora potrei danneggiamo questo ok che cosa fa? ha rimescolato le carte allora adesso vediamo ehm usiamolo qui va bene e e e vediamo il turno dopo rimane una carta ancora questa carta cos'è? cioè mi ha quasi devastato devastato uno due tre quattro cinque possiamo danneggiare quello la si facciamo indicami un versetto e poi danneggiamo questo ah no no aspetta danneggiamo lui perchè così lo neutralizziamo toglie meno tre alle unità adiacenti che non muoiono però eh sì dai vai e ho vinto io amico amico pensavo di perdere però è stata una lotta bella lotta ok malcolm le strade sono pericolose più truppe nere che zanzare di questi tempi aggiungere dravograde è maledettamente impossibile per il momento per il momento ho nascosto la nostra roba in una cassa segreta a lato della locanda di fronte al tempio decideremo come e dove trasferla quando si saranno calmate le acque fino ad allora cerchiamo di non morire invece altra mappa del tesoro non lo troverò mai non lo troverò mai pazzizzo eh ma più che altro perché non riconosco non riconosco le cose se vediamo magari può andare bene invece qua altro villaggio succede neve e il suo seguito passarono vicino a un villaggio razziato dai Nilfgaardiani da lontano avevano sentito delle urla ma una volta vicini le riconobbero non era una grida di dolore ma di rabbia diamo una lezione a questo farabutto pietà brava gente non ho fatto niente di male gli abitanti si trovavano al centro del villaggio attorno ad un elfo ferito e terrorizzato con delle pietre in mano i contadini lo minacciavano e lo insultavano la regina chiese una spiegazione un fabbro dal volto paonazzo si fece avanti e sputò per terra questo bastardo è una spia di Nilfgaard vostra maestà è lui che li ha portati qui a saccheggiare il villaggio deve morire gli altri abitanti annuirono d'accordo con il fabbro l'elfo si gettò ai piedi della regina implorante abbiate pietà rena salvate il vostro leale suddito mentono mi accusano solo perché sono un elfo eh e su che basi io cioè posso credere alla gente se vogliamo cioè lascia che gli uomini faccia no no nessuno fa giustizia da solo risparmiamo siete così sicuri della sua colpevolezza eh avete delle prove eh fatte con il nemico aveva con sé monete di un altro paese i paesani fissarono mev con rabbia stringendo i pugni tuttavia nessuno osò protestare ah ecco sappiate questo le orde nere non hanno bisogno di motivi per venire a saccheggiare le nostre case ora scansatevi e lasciate andare questo poveraccio l'elfo ringraziò piangendo la regina implorandola di non abbandonarlo nel villaggio e di accoglierlo nel suo esercito vostra altezza vi prego non appena ve ne andrete i due admin piccheranno all'albero più vicino eh eh cioè anche se fosse un piano dico di quest'elfo a fare la spia per differenze è stato un caso che l'abbiamo incontrato quindi dubito no no e lascio cosa l'ho salvato e poi lo lascio morire no scusa eh e sia concesse la regina dopo una breve riflessione cerca il quartier mastro ti troverà qualcosa da fare e ora in marcia i contadini fissarono con odio il gruppo che lasciava il villaggio quando le ultime capanne dal tetto di paglia scomparvero oltre la curva nev tira un sospiro di sollievo eh vabbè ah i soldati non hanno il vostra altezza gli elfi stavano tramando con i Nilfgaardiani si lo giuro sugli dei vabbè questi sai con un po' quello che vogliono cioè sempre è stata la discriminazione di razza quindi deve essere anche solo una scusa questo chi è? vostra altezza mercante vi sottopone una proposta potenzialmente interessante a causa della guerra ha deciso di chiudere bottega e si è offerto di darci tutte le sue merci in cambio chiede che alcuni dei vostri uomini lo scortino all'insediamento più vicino ci darebbe più legname e un pezzo di carta e meno sia le reclute ne abbiamo quante ne vogliamo quindi direi che va bene ah forse ho capito che carta è profili di entrambi mi manca un pezzo manca un pezzo solo vabbè andiamo qua questi sembrano che devono andare al campeggio infatti così con quello zaino lì un po' fuori contesto mappa mappa fammi vedere ah qua c'è un bottino ecco qua c'è un villaggio robe si no aspetta stavo guardando un attimo perchè noi abbiamo aspetta noi abbiamo eh ben tre mappe mappa di malcom eh c'è sta casetta ok mappa del contadino questi campi così e la cascata col ponte non lo so per ora non non mi è sembrato di vedere nulla però aspetta aspetta che qua sto sbagliando continuiamo ad andare verso ah qua c'è un bottino ecco ok beh sicuramente troveremo risorse eccetera magari anche le carte questo sì quindi sarebbe bello trovarli ma aspetta qua guarda qua c'è qualcosa vediamo qua ah non vedo nulla qua c'è questo qua è un bottino spesso questo lo salto perchè mi sembra faccia parte dell'ambiente quindi ok ah qua c'è una bacheca aspetta aspetta magari mi dà una mano eh nuovi indicatori aggiunti questo perchè il resto mi sa che avevamo già preso tutto noi eh il principale punto di interesse va bene qui niente ok un incrocio campane che suonano lui costa altezza il proprietario di questa tenuta ha chiesto un esercimento per i danni impattiti in tempo di guerra afferma che non siete riusciti a proteggere le sue terre dall'invasione degli infgardiani allora ha ragione la colpa è solo mia merita un esercimento meno 100 e più morale oppure avrai l'esercito con quello che si merita fustate è un posto nel mio esercito per lui e la sua famiglia ammazza valuterò i danni quando tornerà la pace momento cose più urgenti da occuparmi no dai diamogli il denaro quello che vuole va bene quindi siamo noi i re anzi la regina soldi ne abbiamo a valanga qua ricordate edilfgardiani non riuscirete a sconfiggere gli dei essi non temono le vostre torce né le vostre spade va bene va bene ok andiamo su ah qua c'è qualcosa aspetta non vorrei è appunto essermi perso qualcosa qua in basso vedere infatti qua però è infatti ho riconosciuto la capanna pensa te eccolo qua il paule complimenti cos'è questo ah ma allora se sono tutti avatar chi se ne frega cioè se le mappe ti danno solo gli avatar se che roba pensavo qualcosa di meglio che è già la seconda che trovo ok no allora andiamo su di qua vediamo la mappa un attimo sì va bene c'è un santuario vabbè quindi eventualmente potevamo pregare il morale tornava normale qui eh eccolo qua vabbè noi preghiamo lo stesso ok qui vostra altezza una fana lunga strada ci piace di passare gli uomini potrebbero sgombrare la via volendo ma sono visibilmente spossati dalle continue marce dai nuovoli combattimenti una moneta ognuno vedrai che la fatica scomparirà come per magia al lavoro ok nessuno si riposa mentre significa per fare la nostra casa che si lamentino pure mettila al lavoro mmm abbiamo scelto dobbiamo fare il giro il giro lo faremo lo stesso però via paghiamoli ok infatti il giro lo facciamo lo stesso ok eh per vedere cosa c'è sentiero di slobek qua c'è qualcosa all'improvviso un'ombra oscura attraversò il cielo la regina alzò istintivamente lo scudo convinta che i trabucchi nilfgardiani avessero scagliato un masso ma quando il masso si abbattè al suolo si infranse in miriadi di schegge rivelandosi un barile è questo che ci lanciano addosso barili è uno scherzo nilfgardiani non sono noti per il loro senso dell'umorismo rispose Reinhard mev si alzò sulle staffe scrutando l'orizzonte ciò che vide le strappò una risata il barile non era stato lanciato da un trabucco né da una catapulta ma da un troll delle rocce infuriato con chi? con una guarnigione di soldati nilfgardiani che si era accampata vicino alla caverna che il troll utilizzava come casa ordine soldati si si no aiutiamo il troll magari poi ci aiuta lui che siano troll o uomini disse la regina sguainando la spada nessuno merita di morire per mano dei nilfgardiani seguitemi ok allora la gente sotto auto ha spesso i troll per la loro andatura goffa e i loro discorsi sgrammaticati pensa che siano creature innocue e bestie lente e facilmente ingannabili ma i nilfgardiani avevano presto scoperto sulla loro pelle che tali conclusioni erano assai sbagliate pagando un caro prezzo vince la battaglia senza che emporio muoia o venga catturato ah il nome del troll è emporio si con una o strana battaglia abbreviata qui c'è solo un turno va bene ok allora vediamo un po' io direi togliamo l'oro il medico non mi serve questo potrebbe servirmi ottimo e vedi questi tre ci sono sempre incredibili sono fissi qui in mano ma a sto punto viene da pensare che magari cioè deve essere proprio così però vabbè ehm no togliamo lui perfetto e direi che potrebbe anche andar bene così sì 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 per emporio vabbè vediamo un po' proteggete il troll un attimo un attimo allora ogni due turni all'inizio del turno se la forza combinata delle due unità diacenti a questa è pari danneggia di tutte le unità sulla fila opposta e si sposta sull'altra fila della pagamento a campo se dispari danneggia di t1 tutte le unità su questa fila inclusa se stessa pensa a te e si sposta sull'altra fila vabbè quindi se ok è pari danneggia gli altri la forza se dispari noi praticamente se la forza combinata le due unità diacenti a questa quindi due unità quindi una di qua una a sinistra e una a destra e però possiamo sfruttare questo potere comunque anche se vediamo vediamo allora per iniziare eh ma io il fatto è che gioco sempre vabbè giochiamo qua allora dai vediamo un po' per esempio se metto vicino due albalestie 10 e 10 è pari 20 però iniziamo così va ok ok questo si potenziava eh potenzia la unità diacenti se questa unità è l'armatura va bene giochiamo lui ok destra sinistra passiamo ok si sposta wow questa qua è quella che fa l'imboscata allora attiviamo e giochiamo qua ancora 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 ok poi non sto pensando vabbè guarda che dobbiamo giocare una carta quindi possiamo giocare un albalestiere magari 1 2 3 4 5 5 5 mmm quella poi si coprirà no facciamo così l'armatura non li salverà così ok questa sta accumulando armatura ok cos'è questo simbolo resistenza schieramento fornisce immunità tutti gli alleati ah immunità questa ah è il simbolo del mutaggine ho capito vabbè rimuove immunità l'ultimo desiderio rimuove immunità da tutti gli alleati immunità sarebbe stato per cui questa carta non può essere bersagliata manualmente ah cioè non posso cioè non posso danneggiarla quindi adesso non posso più danneggiarle adesso quando scelgo io di danneggiarla vabbè allora giochiamo eh però così sarebbe dispari se la metto qui no mettiamola qua non si può avere tutto dalla vita ok 6 6 è un bel numero eh per danneggiare potremmo a parte che devo giocare ancora qualcuno e si giochiamo un'arbalestriere e dai li togliamo eh si vedi non li posso danneggiare per questo ovviamente e 7 vai immunità sparisce infatti perfetto no no adesso questa si risposta qui a vostra altezza il troll è un po' imprevedibile la tua vita mi appartiene allora lui non deve morire vero senza che muoia o venga catturato vabbè non so come possa venire catturato va bene ah ma a fine è rimasto qua lui è rimasto qui va bene allora vediamo un attimo perché possiamo possiamo giocare Reynard mi riattiva eh no mi riattiva si però non ha più armatura quindi non può fare più danno allora possiamo voglio pensare richiamare qualcuno eh un arbalestriere chiamiamo un arbalestriere questo che è danneggiato e giochiamo magari sì dai dai fa niente anche se l'ho chiamato l'arbalestriere giochiamo potere ok va bene così so già scelta maledetta va 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 me lo voglio non uccidere allora adesso vediamo sto pensando un attimo che posso qua ne abbiamo due posso fare così allora sposto lui sposto lui sposto lui evoco caldwell sì ora ti insegnerò il rispetto esatto poi lo evoco qua e voilà ha due carte pari ha due carte pari e il tamburino e il tamburino lo mettiamo sono sprecato con l'esercito ok ecco esatto hai visto ecco è però adesso ah che maledetti è che posso potenziarlo eh quindi però adesso queste sono dispari perciò mi danneggerà di uno il turno dopo cioè tra due turni vediamo vediamo attiviamo questo oh perfetto eh sì anche se la mettessi qua sarebbe no aspetta scusate no 7 più un 8 no no è pari va bene così ottimo ora guarda danneggiamo basta un solo d'arte questa ok perfetto eh devo giocare una carta scusate e giocherei lui allora così mi riattiva eh sì i poteri questa ha 3 solo che lì non posso mettere più nulla ok è incredibile infatti 3 così perfetto eh poi evochiamo eh avrei dovuto ascoltare mia moglie evochiamo lui madonna un altro eh no è vero non posso a cazzarola sono pieno non posso più giocare nulla sono strapieno prendetelo fra le venti fiorini aspetta adè questo cos'è ordine si sposta sull'altra fila ehm ternesi 5 unico casuale però perchè è il lucchetto loco stato che disattiva l'abilità di una carta e rimuove gli stati gli altri stati disattiva e scopre le carte coperte spia una spia vabbè ehm aspetta un attimo qua me lo stanno uccidendo eh allora devo potenziarlo intanto carta più debole è proprio questa quindi usiamo questa ah no scusate non l'ho visto c'è lo fu nel mucchio vabbè spero non me lo ammazzino un tempo cacciavo animali ma gli uomini rendono di più ah ho rischiato eh ho rischiato allora eh 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 per forza se no poi mi muore poverino ok ok ehm no stia lasciali lì potrei usare il potere sì della regina vai ottimo questo cosa fa sposta il nemico meno forte vicino a questa unità e lo blocca ah è colpa sua se mi ha ciulato ah ma era roba mia ecco perché no pensavo che era una carta sua no no mi ha ciulato lui l'unità sposta dalla stessa unità nella sua metà di campo originale e rimuove l'unità vabbè eeeh ok direi che siamo a posto guarda che mi ha rubato un'altra carta qui come siamo aspetta 1 2 3 4 5 6 7 8 allora però eh 15 più 11 oddio 15 10 fa 25 e 1 26 a posto ci va di culo allora eh allora io opterei non so se ma infliggiamogli danno così indicami un bersaglio ecco perfetto fine turno è rimasto lì tra l'altro quindi va bene eeeh giochiamo lui ah lui ha passato facciamo facciamo così ok boh poi devo passare quello l'abbiamo demolito eeeh eeeh hai visto ok ok i liriani annientarono le forze nilfgardiane il troll immerso nei suoi pensieri si mise a raccogliere i cadaveri degli invasori umani nero vestiti umani cattivi eeeh infatti messer troll si i nilfgardiani sono dei vili hanno invaso le nostre terre a tradimento no umani nero vestiti duri quindi cattivi tanta armatura difficile da masticare eh ah duri in quel senso sai a chi ti stai rivolgendo questa è sua maestà la tua regina salute mia maestà io Empurio tranquillo Reinhardt me la cavo da sola dimmi Empurio hai una bella scorta di barili ti occupi di baratti per caso? no barili belli da rompere quando Empurio si arrabbia ma ma eh di che barattoli parli intendo dire beh scambiare una cosa con un'altra traendone profitto una cosa per l'altra anche per 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 pepite si se giochi bene le tue carte potresti persino farti pagare in pepite carte carte barili baratto bepite Empurio ha ideona Empurio deve andare prima che umana va via Empurio regala mia maestà aiuta troll troll aiuta mia maestà eh giusto ottenuta carta questa carta è stata aggiunta dal tuo esercito e puoi trovare nella tenda di comando zuppa delfi il troll si voltò e corse fuori dalla caverna per recarsi chissà dove mev ebbe il presentimento che il mondo avrebbe sentito di nuovo parlare del troll di nome Empurio si è quello che ti vende le carte nel Gwent multigiocatore in pratica si eh vabbè hanno fatto una storia anche a lui hanno dato una storia anche a lui vabbè allora fammi vedere però la carta scusate qua cosa fa questo? crea una carta bronze cosa vuol dire? evoca una fra tre carte scelte a caso da una frazione specifica e dalle carte neutrali saldo di assenso specificato cosa vuol dire? crea una carta bronzo condire ogni porzione con formaggio grattugiato aggiungere bulbi oculari per insaporire il tutto servire caldo va bene decorazione al massimo non lo so crea decorazione ah forse queste aspetta un attimo decorazioni dov'è? come intattare il numero di ornamenti che provociabili da me ah ma ornamenti intende io aspetta ho sbagliato intende questi cioè questi si chiamano ornamenti adesso l'ho capito decorazione vedi il simbolo decorazioni aaaaaa le carte magia se vogliamo chiamarle termini di Yu-Gi-Oh o magic quindi e si allora lo prendo subito scusa eh questo aspetta ah no no scusate l'ho già preso che pirla manca quello quello bloccato manca e si l'avevo già sbloccato ok qui sempre tutto uguale niente va bene eeeh qua possiamo parlare di altro si vostra altezza Reina no no devo andare e allora niente ho capito ho capito però non ho capito la creazione vabbè immagino che magari proverò io il campo di addestramento ops vediamo eeeh 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 Grazie.